Assessore Pasano, Mo Falcone cerca un po' di recuperare i tanti anni di allettatezza per quello che riguarda il ragionamento dell'online rispetto alle città principali. Oggi abbiamo presentato un passo importante verso questa direzione. Mo Falcone ha un progetto a 360 gradi di modernizzazione della città e questo strumento, questo del marketplace, va proprio in questo senso. Cioè accostare all'attività più classica dell'attività, come vendita intendo, che è quella dell'accoglimento nel negozio fisico che tutti noi conosciamo da tempo immemore, a questo altro tipo di strumento, che è uno strumento online, che ci permetterà tramite questa piattaforma di creare una vetrina virtuale sull'intera città. Questo è un progetto che non riguarda semplicemente solamente commercianti e artigiani, ma riguarda tutte le attività di Mo Falcone, che sono sotto le 1200 circa, che avranno la possibilità, avrendo una vetrina, di accostare alla vendita tradizionale questo tipo di opportunità, che va a cogliere ovviamente le sensibilità di un territorio molto esteso, che va sostanzialmente da Trieste, l'Altopiano, la Bassi Zontina, ma ha, grazie anche alle peculiarità di alcune attività che hanno dei genere di prodotti assolutamente unici, la possibilità di poter prendere e catturare anche il cliente che è di oltre confine o altrimenti di altre regioni.